La marcia contro la povertà in cammino verso Assisi fa tappa oggi a Terni, Umbria. Io sono Stefano Lucidi, cittadino portavoce al Senato e sono con Andrea Liberati, il nostro candidato portavoce in Regione. Ci troviamo qui sotto le mura, sotto i cancelli delle acciaierie speciali di Terni, un luogo simbolo per tante vertenze lavorative, non soltanto regionali. Come è noto a tutti abbiamo perso 500 posti di lavoro, questo è un luogo anche di sofferenza, non solo di lavoro, è un luogo di disagio, ma è un disagio esteso come è noto a una buona parte dell'Umbria. Ci sono 160 vertenze aperte al Ministero dell'Economia, vertenze socio-occupazionali, il caso della Perugina, il caso che si trascina da anni della Merlone. Noi abbiamo un'idea, per contenere questo disagio il Movimento 5 Stelle propone il reddito di cittadinanza. Per il Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza significa restituire dignità a tutti i cittadini italiani, contro lo sfruttamento, contro l'arroganza, contro la corruzione e contro tutte le mafie. Quindi ci vediamo a Perugia in marcia contro la povertà verso Assisi, il 9 maggio.